Questo video sarà diviso in due parti, la prima parte per coloro che vanno di fretta vogliono vedere un riassunto di quello che è successo quindi durerà penso un 5 minuti e poi la seconda parte del video comunque in descrizione trovate il minutaggio giusto così potete cliccare e andare subito alla parte che desiderate e nella seconda parte invece andrò ad analizzare una a uno tutte e quattro le partite quindi sarà lungo ma la prima parte sarà una parte di riassunto Allora Karsen ha appena vinto 30.000 dollari per aversi aggiudicato questo torneo dove ognuno giocava online da casa propria era un torneo a tempo rapido avevano se non mi sbaglio un 15 minuti a testa più 3 secondi di incremento una roba del genere e madonna madonna cosa è successo Andiamo a vedere rapidamente le quattro partite, la prima vinta da Karsen, la seconda vinta da Karsen, la terza vinta da So e la quarta vinta in maniera epica da Karsen Prima partita arriva al punto culminante nel momento in cui Karsen ha un cavallo qui imboscato in un avamposto incredibile e la mossa decisiva è questa mossa G6 Probabilmente questa spinta G6 è dovuta al fatto che se un giorno So toglierà la torre da qui vuole evitare i matti sull'ottava traversa quindi vuole lasciare un buco al proprio re Qui il motore consiglia subito torre B7 per entrare in settima traversa con l'idea di raddoppiare i pezzi pesanti in settima e entrare e dare scacchi barra scacchi matti Karsen non gioca in maniera precisa, gioca a torre B5 facendo perdere tutto il vantaggio ma a seguito di una serie di mosse di questo tipo Cavallo F7 scacco, attenzione ora bisogna capire come finire l'attacco, arriva il cambio di donne Qui la risposta giusta era alfiere in F6 So non gioca alfiere F6, arriva il cambio di donne e attenzione guarda i secondi 17 secondi per So, 42 per Karsen, arriva cavallo C6 Attacco su questo alfiere, attenzione che arrivano possibilità di doppi attacchi su questo alfiere Qui So pensa, 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 pensa e purtroppo a 3 secondi, aveva quasi 0 secondi Gioca la mossa re in F7 ovviamente sbagliata perché permette a Karsen di giocare torre B7 con guadagno del pezzo E a questo punto la partita è finita per mancanza di tempo per So In caso di torre per cercarsi di tenere il pezzo in realtà questo non funziona perché dopo i cambi Arriviamo ovviamente in un finale di questo tipo dove Karsen ha il pedone libero dall'altro lato della scacchiera Con ovviamente vittoria teorica Arriviamo così alla seconda partita dove Karsen questa volta ha i neri E qui c'è un po' di tensione, abbiamo una qualità per Karsen e un paio di pedoni in più Anzi di più, tre pedoni in più per Wesley So generalmente più ci avviciniamo a un finale più questi pedoni sono importanti Ma Karsen inizia a cambiare adesso i pezzi pesanti E ovviamente quando lasci la prima traversa scoperta arrivano sempre cose brutte Torre C1 scacco, ovviamente attenzione a dove si sposta il re Anzi in realtà solo una casa re in E2 Donna H1 e adesso ovviamente si minacciano entrate molto molto fastidiose Da tutti, in tutti i posti possibili e immaginabili Donna B3, attenzione a torre E1 per Karsen Re D2, torre B1, fantastica combinazione Donna C2, ovviamente donna E1 scacco matto Ovviamente qui i giocatori arrivavano sempre con i minuti contati Qui in realtà non c'era molto da fare Se la donna andava da qualsiasi altra parte Comunque arrivavano sempre i mati Donna E1 e su qualsiasi mosso donna C1 Quindi l'entrata sulla prima traversa è stata micidiale Nella terza partita questa volta è Karsen a soccombere Anche se aveva la possibilità di salvarsi Karsen all'altro dei bianchi, soco i neri Karsen gioca allo scacco, torre C7 Anche se sta subendo qui un po' di attacco C'è il re un pochettino scoperto Re in H6, donna in E3 scacco G5, attenzione che questa mossa porta in gioco in parità Perché c'è la possibilità di un attacco sulla sesta traversa Qual è la mossa giusta in questo momento? La mossa giusta per il bianco per Karsen e anche vincente è Donna B6, cambio di donne a legge Giorisco la posizione, sei costretto a darmi la donna E a questo punto vado a promozione Se ovviamente non vuoi darmi la donna e giochi re in G6 Per cercare di stare vicino alla donna Io, torre C6, perdi semplicemente la torre gratis Ma la partita non va in questo modo La partita va che dopo lo scacco Karsen gioca torre B7 E qui arriva donna A1 L'idea di torre B7 era di fare questa Ma si rivela essere troppo lenta Perché dopo donna A1, Re F2 Karsen abbandona Perché abbandona? Perché ci sono tantissimi tatticismi C'è donna B2, scacco Mi prendo l'alfiere C'è torre F4 Sono tutte mosse mortali E Karsen preferisce abbandonare Arriviamo così all'ultima partita Karsen questa volta è coi neri Ci mettiamo da lato dei neri Era arrabbiatissimo per la sconfitta precedente Vuole dimostrare che So ha vinto solo di fortuna Qui c'è un pedone che Karsen ha spinto In stile A0 fino a H3 Bisogna trovare un modo per fare eruzione in questo Re Karsen decide di giocare in maniera assolutamente posizionale Andando a cambiare le donne Arriva il cambio delle donne E ora qui una bella batteria Radoppio di torri Non lo toglie proprio nessuno E anziché andare a raddoppiare le torri Karsen gioca in maniera incredibile Due pedoni passati e andiamo a spingere Spinge il pedone di 4 Questo pedone è catturabile? Sì Però in realtà se me lo vai a catturare Io come minimo guadagno un pezzo Perché quel cavallo te lo attacco tante tante volte La partita funziona proprio in questo modo Arriva a torri C8 Arriva il raddoppio delle torri Qui tutti si aspettavano la mostra di questo tipo Ma ti chiami Karsen in giochi D3 Il tuo scopo è quello di andare a promuovere Attenzione che il Re qui non può andare E se arriva uno scacco in prima traversa È matto Ricordati di questa cosa Torre C3 Attaccando il pedone E ora Karsen qui ha giocato tutto In maniera straveloce Aveva 35 secondi ma aveva già visto tutto Attenzione Riesce a vedere il super sacrificio? Ovviamente vincevano tutte Anche torre a C7 Ma Karsen gioca Sacrificio di torre su C4 La partita prosegue con torre per C4 Alfiere per C4 E qui per coerenza devi prenderti Ma che cosa succede? Succede che adesso c'è D2 E l'unico modo per difendere la promozione È quello di posizionarti dietro al pedone Ma se ti posizioni dietro Mi dai la possibilità con la torre Di scendere e dare scacco E tu sei obbligato a mangiarti il pedone Perché se non se fai qualche altra cosa Io gioco Scacco E alla prossima promuovo Torre per D2 Torre C1 Matto Ma ritorniamo indietro perché questa è stata veramente da brividi Sacrificio di torre in C4 Ma riesci a vederlo da qui Il sacrificio di torre in C4 Come diamo Quanto diamine sei forte? Torre per C4 Tra l'altro in pochi secondi Qui tutto flash Tac 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 Magnifico Magnifico Ok Questo era quello che è successo in maniera veloce Carson ha vinto Se ha dimostrato di essere ancora una volta il più forte al mondo Non il campione del mondo ma il più forte al mondo Adesso inizia la seconda parte del video Dove ci guardiamo le partite lentamente e con calma Torniamo indietro In tutte queste posizioni Torniamo indietro Torniamo indietro Ok Torniamo indietro anche qui Con calma Ok Andiamo da capo Torniamo indietro E torniamo indietro anche con la prima partita Andiamo qui su analisi Ok Siamo pronti Guardiamoci la prima partita con calma Carson gioca D4 D5 Cavallo F3 Cavallo F6 C4 E6 assolutamente standard G3 Arriva una catalana Alfiere E7 Alfiere G2 Arrocco Arrocco D per C4 Ovviamente qui si va nella linea principale Donna 4 A6 Con l'idea di promuovere la spinta in B5 Ritirata di donna dalla casa in C2 Importantissima Alfiere B7 E ora arriva alfiere in D2 Fin qui tutta teoria pura Alfiere E4 attaccando la donna Donna C1 E' vero che il bianco si sta un pochettino ritirando Ma è solo momentaneo C6 E3 Cavallo BD7 Cavallo C3 E alfiere in G6 Posizione assolutamente pari Equilibratissima Arriva cavallo H4 E a questo punto sembra proprio che il bianco Si prenderà l'alfiere A questo punto Nel momento in cui il bianco riuscirà a prendersi l'alfiere Giocherà con la coppia di alfieri Contro l'alfiere singolo E quando hai la coppia di alfieri Secondo la teoria scacchistica Devi cercare di aprire il gioco Quindi mi immagino spinte di questo tipo Spinte di rottura Vediamo un po' cosa succede No Non ci sta il buon So a dare l'alfiere Quindi decide di spostare l'H5 Donna in E1 Torre C8 Cavallo E2 E Karsen gioca per catturarsi A tutti i costi Quell'alfiere Arriva C5 Alfiere in A5 Supportato dalla regina Che attacca la regina avversaria Donna in E8 E adesso arriva Cavallo in F4 Con l'idea di prendersi quell'alfiere Alfiere D8 Catturo Ricatturo E ora cavallo in F3 Il piano di Karsen è andato a buon fine Adesso quindi si gioca con la coppia di alfieri Che dovrebbero essere un piccolo vantaggio Il cavallo da bordo scacchiera rientra in gioco Torre C1 attivando tutti i pezzi E ora arriva B3 Ora So ha la maggioranza dei pedoni sull'ala di Donna Questo è un 3 contro 2 E dovresti cercare da giocatore che ha la minoranza Di togliergli questa maggioranza Perché può essere troppo pericolosa E qui si può formare un pedone passato E che potrebbe essere un problema Quindi B3 La mossa che viene giocata Ovviamente la spinta non può essere fatta Perché questa casa è iper controllata Tre volte Cavallo D5 Ora attenzione Questo cavallo si centralizza E aiuta il controllo di quella casa B per C B per C E si è creato il pedone passato Quando c'è un pedone passato Lo scopo del difendente È quello di bloccare questo pedone Quindi il primo possibile Qui c'è quello un pezzo leggero Un cavallo O più verosimilmente un alfiere E4 per scacciare il cavallo E alfiere C3 È arrivato il pezzo che blocca il pedone passato Cavallo B6 Donna in E2 Alfiere in E7 Torre C2 Cavallo in A4 Cercando di eliminare il pezzo che blocca Torre B1 E ora eliminazione Ma è arrivato un altro pezzo che blocca Certo Era meglio far bloccare il pedone passato Da un pezzo leggero Piuttosto che da un pezzo pesante Tuttavia la partita prosegue Donna D7 Torre per C4 Sembra che So gli abbia regalato un pedone a Carsi Ma in realtà Qui c'è la ripresa immediata del pedone Ma attenzione che dopo Cavallo E5 C'è un attacco di scoperta su questo cavallo E un attacco su questo pedone Non è possibile tenere tutto E quindi arriva Donna D3 Con doppio attacco su questo punto E sempre attacco su A6 F5 per tenere la posizione E finalmente Carlsen va ufficialmente in vantaggio di un pedone Con un pedone liberissimo di avanzare Vantaggio concreto G6 Questa è la mossa che fa svoltare la partita Qui occorreva un Torre B7 Con donna A7 Con irruzioni sulla settima traversa Carlsen gioca un po' impreciso Attaccando la donna Un po' materialista Donna per D4 Donna per E6 Re nell'angolino E attenzione alle coordinazioni Donna e cavallo Che sono sempre pericolosissime Alfiere di fianchetto per cavallo F per Attenzione che qui ci sono un po' di attacchi su F2 Quindi bisogna avere il pieno controllo della situazione Qui Carlsen pensa, pensa, pensa E arriva cavallo F7 Scacco Ovviamente il re non si va a mettere su attacchi di scoperta Ma gioca a re G7 E attenzione che arriva Donna E5 La mossa corretta qui era assolutamente quella di interporre l'alfiere Ma in partita viene giocata il cambio Cambio, cambio Torre 8 Pochissimi secondi per Wesley So Che cerca giustamente di recuperare il pedone Ma qui c'è cavallo C6 Attacco sull'alfiere E come abbiamo già detto prima Qui mancavano pochissimi secondi So va in panico Probabilmente voleva giocare il re F8 Non si sa se gli è scappato il mouse Non si sa se il panico Fatto sta che quando si è in A corto di tempo Che in gergo scacchistico si dice In Zeitnot O in Zeitnot Può succedere qualsiasi cosa Re F7 E cade il tempo Qui dopo Torre B7 Cade il tempo A So Abbiamo detto che nonostante Si poteva parare questo A seguito dei cambi Col pedone in più La partita era assolutamente vinta Perché Il re deve andare a bada Di questo pedone E il nostro re Può andare a catturare tutti gli altri pedoni Andiamo così alla seconda partita Questa volta è so che ha i bianchi E so gioca c4 E andiamo in una inglese Che viene spesso chiamata una reverse Sicilian Perché questa sembra un'apertura siciliana da bianco E questa sembra una difesa siciliana da nero Quindi una siciliana a colori invertiti G3 D5 Qui si prende il centro Attenzione a queste coordinazioni A raggi X Tant'è che Carson decide di ritirare preventivamente quel cavallo A rocco corto H6 Tutte mosse Di routine Qui So Probabilmente non la conosceva troppo bene Nonostante questa è la mossa migliore del motore Giocare a tre Ma ci ha messo circa due minuti per giocare a tre Si guardava attorno Doveva capire un pochettino la situazione Alfieri D6 B4 Ora In pieno stile siciliana a colori invertiti Il bianco cerca il poundstorm Cerca di attaccare in tutti i modi possibili Se fossimo stati in una perfetta siciliana a colori invertiti Il nero avrebbe arroccato lungo E ci sarebbe stato il re nero sull'ala di donna In realtà questo non c'è Fatto sta che comunque questo attacco è fastidioso A rocco corto D3 Probabilmente per far spazio a questo alfiero Per sostenere al meglio e curare la casa in E4 Torre in E8 L'alfiere invece va in fianchetto A6 Torre C1 Alfiere in E6 Anche Carson va per completare lo sviluppo A4 con l'idea di prendersi questa bellissima casa Donna D7 Arriva a cavallo C5 Questo cavallo è troppo forte che deve essere eliminato Alfiere Torre Attenzione che adesso ci sono un po' di attacchi Ci sono C'è questo pedone sotto attacco più volte Ma Carson in maniera geniale gioca Alfiere H3 Punto esclamativo Qui la situazione non è facile da gestire Solo decide dopo averci pensato un bel po' Di giocare alfiere per H3 Si poteva catturare questo pedone? Non si poteva catturare Poiché seguiva cavallo per E alla fine dei cambi C'era un 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 attacco doppio se non mi sbaglio C'era alfiere per G2 Re per G2 B6 Esatto La torre si deve ritirare E c'è questa bellissima donna D5 Con Attacco doppio sui pezzi Incredibile Incredibile Va bene Torniamo invece alla realtà Non so perché cambia colore Cess quando fai un'analisi Arriva alfiere H3 Cattura in H3 E ora la regina Minacciosa Con possibilità di Attacchi forti Anche in Combinazione con il cavallo Alfiere per R5 Cavallo di 7 Questa So non l'aveva completamente vista O forse si In pratica ora Qualcosa deve cadere Ci sono troppi pezzi sotto O si salva la torre O si salva l'alfiere So decide Almeno perdere per perdere Di Dare Di prendersi qualcosa Decide di giocare Alfiere per C7 Arriva Torre in Ava In C8 Alfiere in F4 E arriva finalmente Cavallo per C5 B per C5 Quindi In questa partita So ha appena perso la qualità Arriva a donne E6 L'obiettivo Possibile del nero È quello di cambiare i pezzi Per far valere la forza Della sua torre in più E3 Cavallo in E7 Cavallo D4 Attacco sulla donna Donna in D5 In precisione Per Carson Alfiere D6 E ora arriva B6 Togliendo il sostegno A questo alfiere Alfiere per E7 Cambio B per C5 Mossa intermedia Tanto l'alfiere da lì Non scappa Alfiere per C5 Arriva Torre per C5 Donna in A4 Torre Nava in C8 E qui ovviamente Si sta minacciando L'entrata in prima traversa Donna per A6 Torre C1 E ora H4 Errore decisivo Che dà alla possibilità A Carson Di attaccare Sulla prima traversa Mossa di profilassi Ma adesso Dopo un ulteriore tempo perso Arriva Torre Per Repair E ora Entrata mortale Unica via di fuga È andare con Reine 2 E dopo Donna H1 Qui La donna è molto forte C'è possibilità di torre 1 La donna di entrare Dare qualche scacco micidiale Infatti dopo Donna B3 Carson fa vedere Qual è la combinazione Migliore Che vince È Torre In E1 Scacco Il Re qua non può andare Qua non può andare Qua non può andare Qua non può andare Unica casa possibile È di 2 Ma dopo Torre B1 Attacco sulla donna La donna si deve spostare Da qualsiasi parte E arriva il Matto In E1 E siamo a 2 A 0 Per Carson Contro il campione Del mondo Arriva così La terza partita Questa volta Carson decide Di aprire con i 4 La cosa bella Ragazzi È che Carson Domina alla perfezione Tutte le aperture Una volta gioca D4 Una volta gioca C4 Una volta gioca E4 Le conosce Tutte molto bene A differenza Magari di So Che è Molto più Decide di giocare Solo le aperture Sulla quali è veramente Sicuro D'altronde sta giocando Contro il giocatore Più forte al mondo Perché andarti A sacrificare Arriva alla difesa Siciliana D6 D4 Cattura Cattura Cavallo F6 Cavallo C3 A6 Mosso a standard Nella Neidorf A4 Cavallo C6 E attenzione a questa variante Cambio Cambio Spinta in A5 Ancora una volta L'idea Di Alpha 0 Quello di spingere i pedoni H e A Per Prendere più spazio Sulla scacchiera E limitare il movimento Dei pezzi Avversario Arriva i 6 Alfiere per D3 Per Lasciare la possibilità Di arroccare D5 Arrocco corto Alfiere E7 Attenzione Qui c'è la possibilità Di spinta in E5 Bisogna capire Se questa mossa È buona Oppure quel pedone In E5 Diventa una debolezza Nel dubbio Meglio prima fare Torre 1 Arrocco corto Alfiere F4 Andiamo a completare Lo sviluppo Alfiere B7 E finalmente Arriva la mossa In E5 In effetti Questa mossa Guadagna molto spazio Anche Se lascia All'avversario La possibilità Di prendere spazio Con il pedone D E il pedone C Ma al momento C'è il cavallo sotto Che si deve spostare Cavallo D7 Torre in E3 E arriva la manovra Dell'ascensore Come dice Il maestro Fide Niccolò Napoli Cioè l'idea è Quello di portare La torre All'attacco Visto che ci sono Parecchi attaccanti In più Non c'è più Il cavallo difensore Dell'arrocco Quindi questa è Un'ottima strategia G6 Per consolidare La posizione Su G6 Viene sempre in mente Un attacco di questo tipo Che però Per ora È fermato Grazie alla coordinazione Di batteria Alfiere Donna Torre in H6 Comunque la torre Viene portata Da questi lati Chissà mai Che un giorno Si riesce a fare Qualche sacrificio Spettacolare Di Regina F5 Qui So trova Devo dire Una difesa Forte Trova un modo Per comunque Per creare problemi Qui presa al varco Ed obbligo Perché altrimenti Se non prendi al varco Questo muro di granito È difficilissimo Da scalfire Invece in questo modo Arriva Torre per F6 Donna G4 Attacco Sul punto debole E un po' Di attacchi Su G6 E5 Attaccando l'alfiere E l'alfiere Va in H6 La mossa migliore Secondo il motore Era andare in G5 Attaccando la torre Ma Alfiere H6 Impedendo la torre Di ritornare In F8 Alfiere C8 E su questa mossa Carson ci pensa Tantissimo C'è una minaccia Scoperta E dopo la scoperta Qui c'è Un'infilata Attenzione Che qui Si perde qualcosa Che cosa bisogna fare Il motore consiglia Donna E2 Qui arriva Torre G3 Carson non ci sa Ritirarsi Vuole cercare Di attaccare Il più possibile Con tutti i suoi pezzi Arriva a cavallo C5 Con attacco Sia sull'alfiere Che sulla donna E qui per forza Ritirata Donna D1 Non c'è Fretta Di catturare Questo alfiere Perché non può Scappare da nessuna parte Torre B8 Attaccando il punto Debole B2 E alfiere G5 Intermedia Tempo sulla torre Torre D6 Alfiere per E7 Donna per E7 E ora Torre C1 Donna C1 Sia per consolidare Questo punto Sia per poter Entrare Sull'ala di Re Torre F6 Cavallo In A4 Ottima Mossa Questa è molto bella Questa mossa L'idea è che se catturi Io catturo con la torre E posso portare anche L'altra torre in attacco Ma c'è anche L'idea di poter Andare in un avamposto Interessante come B6 E4 Si attacca all'alfiere E qui purtroppo Questo alfiere Non ha molte case Se non F1 Così almeno Non è d'intralcio Nessuno Adesso ora Arriva a cavallo Per A4 Ora questa cattura In realtà Non è più pericolosa Perché questa traversa È stata chiusa Da questa fortissima Catena di pedoni Arriva donna F8 E attenzione A questa coordinazione Su F2 Ora C'è il rischio Che la donna Sia sovraccarica Perché se la donna Deve andare a salvare Questo punto Non può più salvare Questo punto E attenzione Che Carson Qui trova una mossa Molto difficile E se vogliamo Anche azzardata Pedone in F3 Questa spinta Non è carina Perché ha indebolito Totalmente Questa diagonale Infatti So fa subito Scacco E questa è la mossa migliore Guarda la barra Del nero Come a favore del nero E addirittura Adesso la donna Può entrare in F2 Fastidiosissima Attenzione Che dopo catture C'è sempre coordinazione Donna E Torre Con minacce di matto Torre Ne ha uno Per dare uno sguardo Alla prima traversa E per F3 G per F3 Torre per F3 E qui Sta sempre molto bene So Torre per F3 Donna per F3 Scacco Alfiere G2 Sembra un pochettino Quasi che la tempesta Sia finita Perché la donna Si è dovuta ritirare L'alfiere è dovuta andare In fianchetto Ok Ora c'è un po' di attacco Qui sopra C3 per sventare l'attacco Alfiere F5 Viene attivato anche L'alfiere Donna D2 Alfiere in E4 E Torre in E1 Qui arrivano un po' di ripetizioni Forse quasi quasi So Gli andava bene ripetere Arrivano un po' di mosse avanti e indietro Un po' di manovre di questo tipo Ovviamente B4 E qui la posizione si è veramente quasi Acquietata Attenzione a questi attacchi a raggi X Reggi 7 Un po' di mosse così Per rimanovrare Alfiere F1 Con l'idea anche di attaccare in A6 Torre in F8 Alfiere G2 Rimaniamo in difesa Torre F5 H4 E Torre in E5 Possibilità persa da entrambi i giocatori Qui mancano 13 secondi per so 8 per cassa E qui giocano molto veloce Ci sono molti errorini e imprecisioni Arriva anche torre H5 Questa mossa andava fatta Si poteva fare molto tempo prima C4 Per cercare complicazioni E rendere più debole questo alfiere Cattura della torre C per D5 Attenzione che c'è l'alfiere sotto Arriva il sostegno per questo alfiere E ora Torre in C3 La minaccia è di andare in C7 E prendersi la donna Donna F6 E attenzione Torre C7 scacco Re in H6 Donna E3 scacco E attenzione Che qui la difesa migliore Era quello di interporre davanti qualche pezzo Sia la torre che la donna So Non si sa per quale ragione Forse per lo Zeitnot Gioca il G5 G5 indebolisce la stessa attraversa Tant'è che ora Karsen cerca questa manovra Per dare problemi In realtà la manovra migliore Era subito giocare Donna B6 Con vittoria A seguito di cambi Per Karsen Purtroppo non si può vedere tutto Soprattutto quando hai poco tempo Karsen gioca Questa manovra Che è troppo lenta Ma lascia la possibilità A Wesley So Di dare scacco E a questo punto Qui Karsen abbandona Poiché c'erano entrate Come donna B2 E si può catturare Un pezzo gratuitamente Ma credo che ci siano anche Minacce di Matto Con torre F4 Eccetera Eccetera Sei alla ricerca di una scacchiera In legno professionale? Vienici a trovare Sul mattoscacco.com Scoprirai le nostre scacchiere Artigianali Da torneo Partita persa per Karsen Siamo quindi 2 a 1 Arriviamo così All'ultimo scontro Ovviamente se si faceva 2 a 2 Si andava ad un Armageddon A uno spareggio Mentre Se la partita finisce 3 a 1 Ovviamente Abbiamo direttamente Il campione E il vittorioso Di questo torneo Andiamo all'ultima partita Questa volta Karsen è con il nero Voglio però Tenere la scacchiera Girata dal lati dei neri Perché questa partita Ha qualcosa di fenomenale C4 E ancora una volta So Gioca le sue aperture Vuole andare tranquillo Gioca contro il personaggio Più forte al mondo Di scacchi Vivente E quindi Questa volta Si va In una Semitarra Pedoni Posizione simmetrica Pedoni che si guardano C'è un bel po' Di pressione al centro Vediamo come prosegue A6 C per D5 D per D5 Ovviamente Karsen Nel momento in cui Vai a giocare Alla semitarra Sai che Potrai giocare Con i pedoni sospesi Barra col pedoni isolato Perché nel momento in cui Wesley So Andrà a catturare in C5 Il pedone D5 Sarà isolato E bisogna stare molto attenti Tuttavia Il giocatore Che gioca con il pedone isolato Ossia il pedone D5 Ha Deve cercare Di sfruttare al massimo L'attività dei propri pezzi Ed è proprio Con questa difesa Che Karsen Fa capire Chiaro Il suo intento Voglio vincere Ho il coltello affilato Tra i denti In stile Rambo G3 C4 Togliendo spazio Ma tanto questo alfiere Non vuole andare di qui Vuole andare di qui Ma attenzione Che comunque Si è formata Quella che è comunque Una maggioranza di pedoni Sull'ala di donna Con un pedone Molto avanzato Quindi Ancora una volta L'idea è Voglio vincere Alfiere G2 Alfiere B4 Ora l'idea è Quello di cambiare L'alfiere sul cavallo Che in qualche modo È controllore Di queste case centrali Arrocco corto Arrocco corto Cavallo in E5 Torre in E8 Alfiere D2 Cavallo C6 A3 E ora Tutti si aspettavano Probabilmente il cambio Ma Karsen Ci sorprende Giocando Alfiere in A5 B4 E ora Presa al varco C per B3 E ora Cattura intermedia Del cavallo E Ritorniamo In questa posizione Di parità Attenzione A questo pedone C6 Di Karsen Che è debole Dovrà cercare In modo Di sbarazzarsene O di difenderlo A vita Non so Con un Alfiere in D7 Attenzione Che quindi Qui possono arrivare Attacchi Su questo punto Può arrivare La tipica manovra Cavallo A5 Cavallo C5 Insomma Vediamo un pochettino H5 Ancora una volta Lo stile Di A0 Influenza Il gioco di Karsen Con l'idea Di andare in H4 Cambiarlo O addirittura Spingerlo Fino in H3 Donna C2 Donna C2 Dà uno sguardo A raggi X A questo pedone H4 Chi se ne frega Torre in F Ma in C1 Doppio sguardo A raggi X Su questo pedone In realtà Due pezzi pesanti Non possono fare nulla Se questo pedone Verrà poi difeso Da un pezzo leggero H3 L'alfiere Per rimanere Sulla lunga diagonale Deve andare in H1 E arriva addirittura Alfiere G4 Karsen se ne infischia Di difendere questo punto Anche perché Nel momento in cui C'è la regina Davanti alla torre Basterà difendere Semplicemente Questo pedone Con una torre Cavallo D1 B1 Appunto Per attivare Questo attacco E qui Arriva Attenzione signore Qui arriva una mossa Dire geniale E poco Arriva Alfiere B6 Alfiere B6 Cosa fa questo alfiere Contro questi pedoni In partita Viene giocata Alfiere B4 Perché Non si poteva Non so Catturare Pedone C6 Perché c'era Una mossa Da 10 Lode Alfiere Per D4 Sacrificio Di pezzo Riesce a capire Il perché Il motivo Non si può Ricatturare Poiché seguirebbe Torre per C8 Qui ci sono idee Di matto Le riesce a trovare Ovviamente Su Donna Per Arriva Che cosa arriva Alfiere Per C8 Non puoi Fare una roba Di questo tipo E Se invece Ritiri la tua regina Da qualche parte Attenzione che qui Comunque arriva il matto Prima cattura Sulla torre L'alfiere deve Ricatturare E arriva Lo scacco Matto Signore Fantastica Fantastica Combinazione Devastante Alfiere B4 Quindi ovviamente So non ci casca Arriva a cavallone 4 E anche questa mossa È devastante Sembra che c'è F3 Ma F3 Non si può giocare Partita Bellissima di Carlsen Veramente Bellissima Perché F3 Non si può giocare Ci sono varie cose In gioco Innanzitutto c'è Possibilità di sacrifici Di cavallo In G3 E su una roba Di questo tipo C'è addirittura Torre per E3 Con un ulteriore sacrificio E qui Torre per G3 Qui arriva quasi Arriva praticamente Il matto Re F1 O re In F2 Arriva Donna in H4 E la combinazione Di donna E torre Con attacchi Di scoperta È micidiale Qui il computer Consiglia Donna E2 Torre in C2 Scacco di scoperta Re in F1 Qui c'è il mondo Donna F6 Re che scappa Donna Donna D4 Qui il motore Vede robe Allucinanti Donna per D4 Su una cattura Di questo tipo C'è Insomma C'è il mondo Oppure 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 Su F3 Anche sempre Come consiglio Il motore C'è anche La donna G5 Con l'idea Di catturare Questo punto Ovviamente Sulla cattura Arriva Donna in E3 Con minacce Devastanti Arriva Alfiere D4 Eccetera Eccetera E sulla cattura Del cavallo Arriva sempre Donna per E3 E su movimenti Di questo tipo Sempre Combinazioni Devastanti Di matto No comment Quindi Abbiamo capito Che non si può giocare F3 Arriva Alfiere per E4 So è costretto A dare il suo Alfiere di fianchetto Arriva la cattura Di torre E ancora una volta Non si può giocare F3 Ci sono sempre I soliti giochini Torre per F3 Cattura E qui Si gioca Alfiere D4 Scoperte sul Re Doppi Questa partita È veramente Da Non lo so Questa è stata Giocata Rapida Non avevano Troppo tempo Per pensarci Io veramente Sono senza parole Cavallo D2 Torre in E6 Sono sconvolto Sono veramente Provato Qui Carson deve cercare Il modo di entrare Anche se So ha veramente Con questa catena Riuscito a creare Una trincea Vediamo Qui il modo Incredibile In cui Carson Riesce a costruire Un attacco Dal nulla Perché qui Come fai Veramente ad entrare L'alfiere Sembra che non riesce A entrare Se lo mette in C7 Non riesce a entrare Questo pedone Purtroppo Inibisce un pochettino Anche gli attacchi Del nero Guarda come pian pianino Vengono rimanovrati i pezzi Qui ci sono un po' Di ripetizioni Alfiere C7 Qui arriva A5 Per evitare che l'alfiere Possa rientrare F3 Arriva finalmente La spinta Che indebolisce Un pochettino La posizione Alfiere F5 Spinta E attenzione Che ora L'alfiere si ritira E arriva E5 Minaccia sulla donna Donne in E7 Adesso Fin quando Prima c'era Tutto l'attacco Sull'ala di re Con sacrifici Adesso Carson Prende E gioca Dall'altro lato Della scacchiera Mi sembrano un po' Le manovre Alla capa blanca Che inventò Appunto il principio Della doppia debolezza Quindi attaccare Da un lato Della scacchiera L'avversario Porta tutti i difensori Su quel lato E poi Quando è scoperta Sull'altro lato Attacca E qui Sta giocando Per il pedone In A3 Torre A1 Per difendere C5 Ovviamente Questa è quasi Una catena pedonale Immagra Una catena pedonale Quindi Ovviamente La mossa La spinta in C5 È totalmente sensata Donne in F2 C4 E arriva G4 Ora questo pedone Si potrà catturare Con un paio Di manovre E ora Bisogna Fare qualcosa Qui Le entrate di torri Non ci sono Anche se raddoppio E le torri Non c'è Granché Qui bisogna fare qualcosa L'unica È attaccare Questa catena Di pedoni Dalla punta L'unica controindicazione Di F6 Che ovviamente Indebolisce Quindi ci sono Possibili attacchi Di questo tipo Ma Karsen Non gliene frega Vuole attaccare Qui So decide Di togliersi Preventivamente Perché dopo Catture Catture Possono arrivare Mosse come Alfiere B6 Per prendersi La donna Quindi toglie Preventivamente Il re È una mossa Troppo difensiva Arriva comunque Alfiere B6 Però questa volta Non è mortale Alfiere D4 Alfiere per D4 Donna per D4 E arriva Attenzione signore Qui ci sono entrate Molto interessanti Della donna In varie case Ma Karsen Sceglie per Cambiare le donne E vincere la partita Grazie ai due pedoni Passati Arriva il cambio Delle donne Arriva la possibilità Di raddoppio Delle torri Qui una persona normale Avrebbe raddoppiato Karsen decide Di spingere Questi pedoni Questo pedone In realtà Non si può catturare Poiché se lo catturi Io raddoppio le torri E guadagno Un pezzo Ma Comunque lo cattura So Forse perché Non ha altre mosse In realtà All'interno Della propria manica Torre AC1 E qui si vince In tanti modi Sia raddoppiando le torri Oppure con la finezza Di pedone In D3 Torre C3 E ora attenzione Che arriva Il sacrificio di qualità Attenzione Che arriva Questa Sacrificio Questa E ora E ora che si gioca D2 Vince facile D2 Costringendo la torre A giocare Torre D4 Perché questo pedone Alla prossima È una regina Ovviamente la torre Non può fare mosse Di questo tipo Ma questa mossa Permette a Karsen Torre C7 Con Matto Qui Arriva Torre Per E scacco Matto Anzi no scusa C'è prima la possibilità Ultima difesa Ultimo baluardo E poi Scacco Matto 3 a 1 Per Karsen Che ha giocato Una partita Devastante Con il 96.8 Di precisione Una partita Molto difficile Con mosse Difficilissime Da vedere E ancora una volta Si riconferma Il giocatore Più forte Al mondo Di scacchi Spero che Il video vi sia piaciuto Ragazzi Se si spolliciate Iscrivetevi al canale Che Matto Scacco È il primo Canale in Italia Ma vogliamo Ancora Ancora Crescere Noi Vi ringraziamo A nome di tutti Ci vediamo alla prossima Ciao